Ciao a tutti e bentornati in Wonderland. Io sono Valentina e oggi vi parlo dell'ultimo libro che ho letto, che ho finito di leggere da poco. E sto parlando di questo qui, di Dacia Maraini, Chiara D'Assisi, Elogio della disobbedienza, edito da Rizzoli, io l'ho preso al costo di 11 euro. Questo libro l'ho preso in occasione di un incontro con la scrittrice, con Dacia Maraini. Infatti ho avuto il privilegio di conoscerla e di farmi autografare il libro. Sono stata molto contenta di partecipare a questo incontro in occasione di una bellissima serie di incontri dedicati alla scrittura al femminile che si sono tenuti al Palazzo Riso, palazzo storico della mia città, che è la sede del Museo d'Arte Contemporanea di Palermo. Ho partecipato soltanto a quell'incontro perché appunto per motivi di lavoro non sempre sono disponibile a quell'orario. a questo incontro con Dacia Maraini, però ho voluto davvero partecipare e ne è valsa la pena, perché ho avuto modo di scoprire una scrittrice brillante con un vissuto molto interessante. Infatti appunto in occasione di questo incontro ha raccontato degli aneddoti della sua vita, dei viaggi che ha fatto, dei libri che ha scritto. Alla fine dell'incontro poi c'era il solito banchetto in cui si trovavano alcuni libri, scritti appunto da Dacia Maraini e io devo ammettere che non avevo mai letto niente di Dacia Maraini. Ho dato un'occhiata e sinceramente incuriosita da questo qui ho deciso di prenderlo. Era molto curiosa di vedere come una scrittrice di romanzi si potesse approcciare a una tematica così impegnativa, ad un vissuto molto lontano sicuramente dalle storie che potrebbero essere romanzate o comunque potrebbero essere oggetto di romanzi ai giorni nostri. Questo libro si presenta all'inizio sotto forma di corrispondenza epistolare fra una ragazza che dice di scrivere da un paesino in provincia di Catania e la scrittrice. Questa ragazza si presenta, presenta se stessa, presenta brevemente anche la sua famiglia e anche il contesto in cui è nata e vissuta. Dalle righe che scrive la scrittrice si evince che è una ragazza in cerca di risposte, una ragazza in cerca probabilmente di identità. All'inizio non è neanche chiaro quale sia la richiesta che fa alla scrittrice, tant'è che appunto in questo botta e risposta la scrittrice è inizialmente spiazzata. La ragazza però comincia ad introdurre il tema oggetto appunto del libro. A poco a poco, se all'inizio appunto la scrittrice è molto restia, quasi assolutamente disinteressata alla tematica della clausura, di Santa Chiara, alla vicenda di Santa Chiara e alla vicenda di San Francesco. La ragazza però non si dà per vinta e a poco a poco appunto in questa corrispondenza riesce, comincia ad introdurre alcune tematiche che riguardano in effetti la vita della santa, la vita della clausura, riesce quasi a fare un parallelismo con la sua condizione, per cui in effetti comincia a fare entrare la scrittrice in una dimensione che comincia a prenderla sempre di più. Fino a quando a un certo punto la scrittrice si ritrova all'interno della storia, si ritrova immersa nella ricerca di fonti bibliografiche che riguardano la vita monacale e il medioevo, fino a quando appunto la scrittrice si ritrova assolutamente dentro a questo vortice che la spinge ad interessarsi a questo mondo e non si rende conto che è assolutamente già pronta per scrivere di tutti questi argomenti. E a un certo punto questa ragazza Chiara parisce, non risponde più alle email della scrittrice, però la scrittrice è così dentro alla storia, che va avanti nelle sue ricerche e nei suoi approfondimenti. Mi fermo qui con la trama, anche se non ci sono dei veri e propri colpi di scena, però appunto poi lascio a voi il gusto di proseguire nella lettura. Perché vi consiglio di leggere questo libro? Cosa che mi ha portato ad andare avanti e a finirlo? Allora, lo dico subito, non è un romanzo facile, o meglio, Dacia Maraini è una scrittrice formidabile che è riuscita a farmi leggere argomenti che trattavano tematiche di misticismo e di alto medioevo anche alle 8 di mattina sull'autobus. Quindi sicuramente questo libro è scritto da Dio e non lo mettiamo in dubbio. A chi lo posso consigliare? Sicuramente lo posso consigliare mi rivedo io quando all'università dovevo studiare arte medievale e sicuramente questo libro mi sarebbe stato utile sia perché riesce proprio a catapultarti in quella dimensione e perché davvero approfondisce tantissime tematiche che riguardano appunto l'alto medioevo, ha una bibliografia pazzesca di riferimento. Dacia Maraini ha veramente letto forse tutto quello che è possibile leggere sull'alto medioevo e quindi è un libro curatissimo che dà tantissime informazioni anche appunto storiche. È interessante come in realtà la scrittrice ci presenti una donna innanzitutto e sta qui l'abilità probabilmente e lo trasforma da libro di storia a romanzo storico proprio perché riesce a caratterizzare Santa Chiara e ce la fa sentire donna, la vicina comunque a tutte noi e ce la fa vedere appunto probabilmente con delle pulsioni materne o ce la fa vedere magari quando ancora all'inizio è molto giovane cambia completamente il suo vissuto di ragazza nobile a ragazza che va a chiudersi in convento viva di stenti e privazioni assolutamente scelti da lei stessa e ce la presenta in questo modo così accattivante che noi andiamo avanti nella lettura Chiara diventa un po' una nostra amica in qualche modo Ho scelto stavolta di leggervi l'Incipit Chiara, questa ragazza, si presenta alla scrittrice Il libro inizia così Cara scrittrice, sono una studentessa siciliana di un piccolissimo paese alle falde dell'Etna chiamato Santo Pellegrino Sta in fondo a un'isola disgraziata eppure bellissima che lei conosce bene e che io amo ma di cui sento addosso i difetti come tante pulci affamate Mi chiamo Chiara Questo non le dirà nulla ma per me invece è molto, moltissimo Su questo nome luminoso, cristallino, su questo nome che parla di trasparenze pensose mi sto rompendo la testa L'origine della scelta è semplice, quasi banale Mia madre è molto religiosa e ha voluto mettere il nome di Chiara perché sono nata proprio il giorno in cui si festeggia la Santa, l'undici agosto che poi sarebbe il giorno della sua morte perché il giorno della sua nascita non è noto come si conosce con esattezza l'anno il 1193 o il 1194 E poi poco più avanti continua Sono anni che mi chiedo chi sono perché sinceramente non lo so Per questo ho cominciato dal mio nome sperando che mi aiutasse a capire Qualche mese fa ho preso il treno e sono andata ad Assisi Mentre viaggiavo ho letto un libricino sulla Santa che ho trovato nella biblioteca del mio piccolo paese Alla fine della prima lettera la scrittrice scrive queste parole Cara Chiara, curiosa la sua lettera ma sono io che le chiedo Cosa vorrebbe da me? La sua storia la racconta con briva intelligenza però dove vuole condurre? Di Santa Chiara non so niente né forse mi interessa sapere mi spieghi meglio Un caro saluto Lasciamo a Rai E subito dopo Chiara risponde Quello che voglio è che mi accompagni in questo viaggio dentro la memoria alla ricerca di una donna che non c'è Così mi vedo io invisibile e senza nome Sebbene abbia un nome e un indirizzo e anche una famiglia per quanto disgraziata Mi sto appassionando la storia di Chiara di Assisi Il perché non mi è chiaro Vorrei che fosse lei a farmelo capire Poi il libro insomma continua Prima appunto con questo rapporto epistolare e poi con tutte le riflessioni sull'alto medioevo sulla condizione della donna Donna sonora Allora Per questa volta io devo dirvi che sono molto in difficoltà perché sinceramente non mi è venuto in mente niente nessuna musica nessun brano da poter accostare a questo libro L'unica musica che mi è venuta in mente effettivamente leggendo il libro sono stati proprio i canti sacri e queste voci quasi bianche delle monache accompagnate soltanto dalle loro voci Il libro è pieno di silenzi di meditazioni di queste donne che appunto si abbandonavano completamente al sacro Il libro ci fa sentire anche quasi lo scalpiccio dei piedi nudi sulla pietra di queste donne che alle due del mattino si alzano per andare a recitare il mattutino che era una preghiera appunto da recitare alle due del mattino E questo è tutto Allora io spero che questa recensione sia stata utile è stata una lettura molto interessante magari in alcuni momenti un po' faticosa Se volete che io continui a fare questi video strampalati iscrivetevi al canale mettete un like a questo video se vi è piaciuto se avete letto Chiara Di Assisi anche voi e volete parlarne io sarei assolutamente felice di farlo voglio sapere anche il vostro parere lasciatemi i commenti e io vi risponderò sicuramente Vi do appuntamento al prossimo video che ancora non so bene cosa sarà probabilmente sarà un'altra recensione perché ho praticamente quasi finito un libro in due giorni per cui sono pronta già a parlarvene vi mando un bacio e a presto ciao ciao